270.000 presenze in tre giorni, 202 stand provenienti da 33 paesi di ben 4 continenti distribuiti in un'area di quasi 6.000 metri quadrati. Sono stati questi i numeri che hanno caratterizzato la dodicesima edizione del mercato internazionale dei prodotti tipici che si è chiusa domenica. Solo nell'ultimo giorno, complice a una giornata quasi primaverile, si sono raggiunte le 100.000 presenze, ma la punta massima di affluenza si è toccata sabato con 120.000 presenze e gli stand al lavoro fino a notte fonda, una fole degna delle migliori edizioni della Kermess ideata da ConfCommercio, realizzata quest'anno con il patrocinio di Comune di Arezzo e Camera di Commercio. Tutto ciò ha permesso di recuperare negli ultimi due giorni la performance del giorno di apertura parzialmente compromessa dal forte maltempo. Tra le curiosità che più sono piaciute in questa edizione, i food truck di Piazza Sant'Agostino e i piccoli ristoranti su rote che insieme al prato di erba sintetica attrezzato per i picnic hanno regalato all'area un look un po' vintage e molto apprezzato dal pubblico.